buonasera a tutti siamo nella chiesa di albate come vedete ci prepariamo per vivere insieme la via crucis questa sera vorrei che voi foste tutti qui purtroppo non possiamo farlo direttamente lo facciamo attraverso questo canale youtube la via crucis percorrerà le 14 stazioni che sono illustrate nella nostra chiesa mi scuserete se la realizzazione tecnica non è delle migliori ma percorreremo tutta la chiesa fermandoci ai piedi di ognuna delle formelle in legno che decorano le colonne di questo tempio la via crucis che viviamo è in comunione con tutti quelli che soffrono in modo particolare gesù ci ha insegnato ad amare anche nelle situazioni più difficili e quella che stiamo vivendo certo lo è per tutti ma in modo speciale per gli ammalati per coloro che li assistano per i poveri che si trovano isolati e che non hanno nessuno a cui affidarsi vogliamo insieme affidarci tutti al signore sarà un momento molto semplice ogni stazione verrà presentata anche con l'immagine poi l'invocazione ti adoriamo cristo e ti benediciamo e voi a casa rispondete perché con la tua santa croce hai redento il mondo un breve brano della sacra scrittura e una orazione a cui si risponde amen nel momento del passaggio da una stazione all'altra invece diremo quella preghiera della supplica alla santissima trinità che è nata dall'esperienza di maccio che fa così mio signore mio dio per il dono della tua incarnazione passione morte risurrezione contemplo adoro e prego e tutti da casa potete rispondere santissima trinità misericordia infinita io confido e spero in te ecco vorrei davvero che questa preghiera ci aiuti a confidare e a sperare nella santissima trinità misericordia iniziamo allora insieme con un momento di silenzio e poi il segno della croce nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo la grazia la misericordia e il perdono da parte di dio nostro padre e del signore gesù cristo sia con tutti voi preghiamo dio onnipotente ed eterno tu che hai voluto che il nostro salvatore si consegnasse a noi facendosi uomo e morendo sulla croce affinché tutti seguissimo il suo esempio concedi che gli insegnamenti della sua passione ci servano come testimonianza per partecipare un giorno alla sua risurrezione gloriosa iniziamo allora contemplando la prima stazione prima stazione gesù è condannato a morte ti adoriamo cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo disse loro pilato metterò in croce il vostro re risposero i sommi sacerdoti non abbiamo altro re all'infuori di cesare allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso preghiamo padre santo mostra la tua misericordia verso di noi perché celebrando la passione del tuo figlio comprendiamo il mistero del tuo amore amè mio signore e mio dio per il dono della tua incarnazione passione morte risurrezione contemplo adoro e prego santissima trinità misericordia infinita io confido e spero in te seconda stazione gesù caricato della croce ti adoriamo cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo essi allora presero gesù ed egli portando la croce si avviò verso il luogo del cranio detto in ebraico golgota preghiamo signore gesù concedi ai tuoi fedeli provati dalle difficoltà di partecipare alla grazia fortificante della tua passione perché manifestino in se stessi la potenza della tua salvezza amè mio signore e mio dio per il dono della tua incarnazione passione morte risurrezione contemplo adoro e prego santissima trinità misericordia infinita io confido e spero in te terza stazione gesù cade per la prima volta il giorno dopo giovanni battista vedendo gesù venire verso di lui disse ecco l'agnello di dio ecco colui che toglie il peccato del mondo preghiamo signore gesù umile e obbediente fino alla morte di croce concedi ai tuoi servi la fedeltà al tuo mandato e la pazienza nelle avversità amè mio signore e mio dio per il dono della tua incarnazione passione morte risurrezione contemplo adoro e prego santissima trinità misericordia infinita io confido e spero in te quarta stazione quarta stazione gesù incontra sua madre ti adoriamo cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo al vedere gesù restarono stupiti e sua madre gli disse figlio perché ci hai fatto così ecco tuo padre e io angosciati ti cercavamo ed egli rispose perché mi cercavate non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio preghiamo signore gesù concedici la protezione di tua madre consolatrice degli afflitti perché possiamo confortare coloro che soffrono con la stessa compassione con cui tu hai alleviato le nostre pene amè mio signore e mio dio per il dono della tua incarnazione passione morte risurrezione contemplo adoro e prego santissima trinità misericordia infinita io confido e spero in te quinta stazione simone di cirene porta la croce di gesù ti adoriamo cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo se qualcuno vuol venire dietro a me rinunci a se stesso prenda la sua croce e mi segua preghiamo o gesù salvatore di tutti gli uomini che morendo hai distrutto la morte e risuscitando hai ristabilito la vita santifica il tuo popolo che hai redento con il tuo sangue prezioso amè mio signore e mio dio per il dono della tua incarnazione passione morte risurrezione contemplo adoro e prego santissima trinità misericordia infinita io confido e spero in te sesta stazione la veronica asciuga il volto di gesù ti adoriamo cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo molti si stupirono di lui tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo preghiamo signore gesù cristo redentore nostro concedici di unirci con devozione alla tua passione per mezzo della penitenza per poter giungere alla gioia della risurrezione amè mio signore e mio dio per il dono della tua incarnazione passione morte risurrezione contemplo adoro e prego santissima trinità misericordia infinita io confido e spero in te settima stazione gesù cade per la seconda volta ti adoriamo cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo noi tutti eravamo sperduti come un greggio ognuno di noi seguiva la sua strada il signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti preghiamo signore gesù ti preghiamo per la tua chiesa per essa ti sei offerto in sacrificio per santificarla e purificarla nel bagno della rigenerazione e nella parola della vita rinnovala senza cessare di redimerla nella penitenza amè mio signore e mio dio per il dono della tua incarnazione passione morte risurrezione contemplo adoro e prego santissima trinità misericordia infinita io confido e spero in te ottava stazione gesù incontra le piedonne ti adoriamo cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo disse gesù figlie di gerusalemme non piangete su di me ma piangete su voi stesse e sui vostri figli preghiamo o cristo figlio del dio vivente ci hai sepolto con te nel battesimo concedici di camminare nella novità della vita per essere simili a te nella risurrezione gloriosa amè mio signore e mio dio per il dono della tua incarnazione passione morte risurrezione contemplo adoro e prego santissima trinità misericordia infinita io confido e spero in te non la stazione gesù cade per la terza volta ti adoriamo cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre infermità essendo stato lui stesso provato in ogni cosa come noi escluso il peccato accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia ed essere aiutati al momento opportuno preghiamo signore gesù cristo cadendo a terra come un chicco di grano ci hai donato il frutto della vita divina concedici di morire al peccato una volta per sempre e di vivere per dio mio signore mio dio per il dono della tua incarnazione passione morte risurrezione contemplo adoro e prego santissima trinità misericordia infinita io confido e spero in te decima stazione gesù è spogliato delle sue vesti ti adoriamo cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo i soldati poi quando ebbero crucifissero gesù presero le sue vesti e ne fecero quattro parti una per ciascun soldato e la tunica ora quella tunica era senza cuciture tessuta ad un pezzo da cima a fondo perciò dissero tra loro non stracciamola ma tiriamo a sorte a chi tocca preghiamo signore gesù concedi ai tuoi fedeli di mortificare in se stessi l'inclinazione al peccato perché possano disporsi a celebrare la tua risurrezione amè mio signore mio dio per il dono della tua incarnazione passione morte risurrezione contemplo adoro e prego santissima trinità misericordia infinita io confido e spero in te undicesima stazione gesù viene inchiodato alla croce ti adoriamo cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo e quelli che passavano di là lo insultavano scuotendo il capo e dicendo tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni salva te stesso se tu sei il figlio di dio scendi dalla croce preghiamo signore gesù che dalla croce sollecitasti il perdono dei tuoi persecutori da parte del padre concedi di amare i nostri nemici e di pregare per coloro che ci perseguitano mio signore mio dio per il dono della tua incarnazione passione morte risurrezione contemplo adoro e prego santissima trinità misericordia infinita io confido e spero in te dodicesima stazione gesù muore sulla croce ti adoriamo cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo verso le tre gesù gridò a gran voce è lì è lì le ma sabachthani che significa dio mio dio mio perché mi hai abbandonato e gesù è messo un alto grido spirò preghiamo signore ti rendiamo grazie perché morendo sulla croce ci hai dato una vita nuova aiutaci ti preghiamo a non distruggere questo dono con la malizia del peccato amè mio signore mio dio per il dono della tua incarnazione passione morte risurrezione contemplo adoro e prego santissima trinità misericordia infinita io confido e spero in te tredicesima stazione gesù deposto dalla croce ti adoriamo cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe al primo e poi all'altro che era stato crocifisso insieme con lui venuti però da gesù e vedendo che era già morto non gli spezzarono le gambe ma uno dei soldati gli colpì il costato con la lancia e subito uscì sangue e acqua preghiamo signore gesù che hai fatto della croce l'albero della vita concedi i suoi frutti a tutti noi morti e risuscitati per mezzo del battesimo mio signore mio dio per il dono della tua incarnazione e passione morte risurrezione contemplo adoro e prego santissima trinità misericordia infinita io confido e spero in te quattordicesima stazione gesù adagiato nel sepolcro ti adoriamo cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo giuseppe di arimatea preso il corpo di gesù lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova che si era fatta scavare nella roccia rotolata poi una gran pietra sulla tomba del sepolcro se ne andò preghiamo signore gesù cristo morto a causa dei nostri peccati e risuscitato per la nostra salvezza ti adoriamo come nostro redentore e umilmente ti chiediamo di ricordarti di noi nel tuo regno ame mio signore mio dio per il dono della tua incarnazione passione morte risurrezione contemplo adoro e prego santissima trinità misericordia infinita io confido e spero in te e ora qui davanti al crucifisso vogliamo concludere questo momento di preghiera e di meditazione affidandoci al signore al dio che è padre pregando come gesù stesso ci ha insegnato con quella confidenza che oggi è quanto mai necessaria questa preghiera mettiamo davanti al signore ancora tutti i sofferenti gli ammalati mettiamo anche le nostre famiglie le persone che vivono con noi che affidiamo al suo amore padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga al tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male signore dio nostro che hai voluto realizzare la salvezza di tutti gli uomini per mezzo del tuo figlio morto sulla croce ti preghiamo concedi a noi che abbiamo conosciuto in terra questo mistero di raggiungere in cielo il premio della redenzione per gesù cristo nostro signore amén il signore sia con voi vi benedica e vi custodisca nel suo amore di onnipotente padre e figlio e spirito santo amén e la pace del signore resti sempre con voi arrivederci a tutti fra poco sarà messa sul sito anche la riflessione il vangelo di questa quarta domenica e auguriamo così di vivere bene anche questo tempo di quaresima arrivederci a tutti grazie guarda 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 Grazie a tutti.